Allora, vogliamo cominciare questa puntata? Subito, cominciamo alla grande! Alla grande con una grande esclusiva di Zeric Time. La novità di quest'anno su questo palco, noi siamo veramente felici di avere qua colui che riesce a dare le giuste parole ai personaggi famosi. L'avrete sicuramente visto in rete, il suo doppiaggio di Mick Jagger ha fatto veramente il giro del mondo e l'abbiamo solo noi. I loro di visualizzazioni. Sì, solo noi qua a Zeric Time, Fabio Cerenza! Ciao Fabio. Buonasera. Buonasera. Ciao Fabietto. Buonasera. Si posiziona sui suoi segni, giustamente. Partiamo subito con... Qual è uno dei film che ti ha entusiasmato di più, Fede? Beh, se devo citarne uno è Gladiatore. Guarda, casualmente... Ma dai! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Ma neanche parla a posta! Hai visto a posta! Ce l'abbiamo! Ma perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero nome? Mi chiamo Daniel. Come osi voltare le spalle a me! Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome! Manuel Gilberto, Maurizio e Peppone. Davide, Federico, Gino, Antonio, Stefano, Giosuè, Pino, Massimo, Alessio. Non è un romano! Infatti son molisano. E rispetto ai mo' che dobbiamo fa' Eppure la mia festa. Ti lavo i denti. Eppure la mia festa. Grazie.